Siamo arrivati anche alla pagina sportiva del TGNO, in apertura una notizia di basket. Alice Carrara da oggi è una nuova giocatrice del basket Lemura. Con i suoi 187 cm di altezza, Alice va a rinforzare il reparto delle lunghe lucchesi, completando un pacchetto che può vantare Ngondioc, Treffers e Graves. Nata 21 anni fa, Carrara giunge a Lucca dopo l'esperienza nelle fila di Palermo nella scorsa stagione. E adesso il calcio, la lucchese, la società è al lavoro per allestire la squadra per la prossima stagione e ci sono le prime anticipazioni. Non è certo un segreto che avere un direttore generale come Fabrizio Lucchesi significa sapere che la lucchese farà una squadra per lottare, forse non per vincere ma per lottare di sicuro. Purtroppo i giocatori contrattualizzati si contano sulla punta delle dita di una mano. Per questo, anche se siamo quasi a metà giugno, non è facile capire che tipo di rosa e di squadra potrà mettere insieme. Anche perché i primi soldi dovranno essere spesi per gli stipendi arretrati, la fiduzione e l'iscrizione. Inoltre il presidente Lorenzo Grassini e l'amministratore unico Ferruzzi dovranno dare mandato allo stesso direttore generale per la riorganizzazione dei dipendenti e degli spazi, oltre ad affrontare subito con il comune l'argomento stadio e impianto di illuminazione. Quanto ai giocatori più rappresentativi, ovvero Marcos Specie e Jacopo Fanucchi, il loro destino dovrebbe essere già segnato. Per l'Italo argentino c'è infatti il pressing costante del Giviborgo, dove ritroverebbe mister Pagliuca, mentre per Fanucchi Radiomercato parla con insistenza del Ponte d'Era di Paolo Giovannini. Un'altra notizia di basket, si è concluso il ventesimo torneo Città di Lucca Gesam Cup Memorial Danilo Corsi, una tre giorni in cui otto tra le migliori squadre toscane under 13 si sono affrontate a colpi di canestro. La vittoria finale è andata al Don Bosco. C'erano oltre ovviamente al centro mini basket Lucca, appunto il Don Bosco Livorno, il Biancorosso Empoli, l'Unione Sportiva Africo, la Sankat, il basket Prato Giovani, il basket Cecina e da fuori regione il PGS Canaletto. E adesso il rally, la Peugeot 208 T16 acclamata dal pubblico alla Supercar Night Parade del Parco Valentino a Torino. La Peugeot 208 T16, vincitrice del decimo titolo italiano rally e attuale leader di stagione, ha sfilato alla Supercar Night Parade del Salone Parco Valentino 2018. A bordo un equipaggio d'eccezione, il dieci volte campione italiano rally Paolo Andreucci, che per l'occasione, ma solo per questa volta, ha abbandonato la fidata Anna Andreussi per sfilare per le vie del centro di Torino, con a fianco il direttore generale del gruppo PSA Italia, Massimo Roserba. La plurivittoriosa 208 si è fatta notare al Castello del Valentino, assieme a tante Supercar, prototipi e vetture di serie. È stata un'esperienza magnifica, ha detto Andreucci, mi sono divertito davvero molto e lo confesso, sono rimasto colpito dal calore delle persone, a corsa a vedere la sfilata e claplaudivano al nostro passaggio. Chiudiamo con un'altra notizia di calcio, si è disputato il nono Memorial Elena e Federica Battistini, in ricordo di due delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. È stato un quadrangolare di calcio a 11 in programma al campo Benelli di Lido di Camaiore. Ha vinto la formazione della Croce Bianca di Querceta, seconde le forze dell'ordine, terzo il Kral Club Vibus e quarti i Vigili del Fuoco. Il torneo aveva il patrocinio dei comuni di Camaiore e Viareggio, della provincia di Lucca e della regione toscana. È tutto anche per lo sport, di nuovo la pubblicità, poi ci rivediamo per la terza parte del TG Noi.